Sono un pirata del karate. 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 Sono Eugenio Credidio e questo è Pirati del Karate. Il maestro, questa figura mitica, epica, mitologica, questa figura che ha moltissimo fascino e che ha un enorme ascendente su di noi. Questa figura che molti di noi vogliono diventare. Lo domestifichiamo un po'. Vi va? Eh? Cosa ne dite? Perché secondo me alla fine della puntata di oggi vedrete i vostri maestri, me compreso, spero, se faccio bene il mio lavoro, con occhi diversi. Ma prima di iniziare questa puntata, prima di tutto voglio darvi il bentornati, il buonasera, buon venerdì sera. Spero che vi stiate preparando a rilassarvi o a vivere un weekend ricco di emozioni e di eventi. Questo è Pirati del Karate, il podcast del popolo dei Karate Caliberi, della nostra Repubblica Indipendente che ha il suo quartier generale al Dojo Shinsui di Alessandria e il suo quartiere generale virtuale sul sito del Dojo Shinsui, dojoshinsui.com e su cui vi suggerisco sempre di andare sul gazzettino, dojoshinsui.com slash gazzettino del dojo, perché trovate tutto il materiale che pubblico. Questo è il podcast di una community indipendente che vuol cercare di preservare e continuare a far vivere il Karate Do. E per farlo, beh, ci stiamo unendo, ci stiamo alleando. Come, dove, soprattutto, su Telegram abbiamo una bellissima community online che è ancora ai suoi primi passi, ma spero che pian piano diventi sempre più grande, sempre più affiatata, dove chiacchieriamo, ci confrontiamo, dove decidiamo assieme le puntate delle live che farò su Instagram e dove potete mandarmi le vostre dichiarazioni di appartenenza e le vostre domande a cui rispondo qui, che inserisco qui. Questo non è un podcast mio, questo è il nostro podcast, ragazzi. Mi raccomando, quindi aiutatemi a farlo alimentare. Vi dico che magari qualche volta mi mandate del materiale e non appare nella puntata subito successiva, magari appare in una o due puntate dopo. Questo semplicemente perché ho delle esigenze di produzione che spesso cozzano con i tempi in cui mi mandate il materiale. Ma non vi preoccupate perché metto sempre tutto. Quindi andate sul canale Telegram, sul gruppo, scusatemi, sul gruppo Telegram dei Pirati del Karate, iscrivetevi, conosciamoci, chiacchieriamo, pratichiamo assieme, verrete anche informati di quando facciamo gli eventi live. Insomma, è un bel gruppo, vi aspetto. E non dimenticatevi di iscrivervi alla newsletter dei pirati dojoshinsui.com slash newsletter... No, cosa dico? dojoshinsui.com slash Repubblica Pirati. Così verrete sempre aggiornati e saprete tutte le anteprime. Io sono Eugenio Credidio, non mi ricordo se ve l'ho già detto, per voi spesso Sensei Eugenio, perché mi avete eletto a vostra guida. E oggi parliamo proprio di questa figura mistica. Sensei! Sì, Sensei! Lo ricordate Cobra Kai? Un giorno ero a Milano a chiacchierare con il mio ormai amico, spero di poterlo definire tale, maestro Gaetano Palumbo, che è un pirata come noi. Forse non si è ancora convinto di questa cosa, ma nel cuore è un pirata come noi. Il maestro Gaetano Palumbo, maestro di Wechiryu e grande esperto di Kobudo, è lui che mi sta facendo fare i primi passi in questa meravigliosa disciplina, odia essere chiamato maestro. Uno dei motivi per cui io e lui siamo andati d'accordo è che ci diamo del tu, lui mi chiama Eugenio, io lo chiamo Gaetano e siamo felici come delle Pasque. E questo, di certo, non inficia sul rispetto reciproco che abbiamo l'uno per l'altro. Anzi, forse il rispetto reciproco e l'affetto che abbiamo l'uno per l'altro è fin più profondo, perché non è, come dire, mascherato, non è dovuto da titoli e onoreficenze, ma è dovuto a un rispetto reale fra due persone che si stimano e appunto si rispettano. E il maestro Palumbo, anzi Gaetano, mi trova molto concorde su questo aspetto. Io lo dico sempre ai miei ragazzi. Ragazzi, chiamatemi Eugenio, datemi pure del tu. Non è chiamandomi maestro che mi dimostrerete il vostro rispetto o che mi darete un plus. È dimostrandomi proprio nell'atto che mi rispettate, dimostrandomi nell'allenamento che vi impegnate e che reputate ciò che vi insegno di valore. Dimostratemi il vostro affetto, il vostro rispetto, scusate, con ciò che fate, non con delle etichette. C'è stato un periodo, io ne iniziavo, e magari lo rifarò ancora, questo podcast con Qui Sensei Eugenio. Ci sono stati dei senpai che mi hanno, a cui piace farsi chiamare senpai, e non sensei, che mi hanno reddraguito su sta cosa, ma ti fai chiamare sensei però di qua, però di là, però di su, però di giù. Ragazzi, era un espediente narrativo, un gioco, chiamatelo come volete. Chi mi conosce e segue il mio lavoro da tempo lo sa che a me me ne fotte una sega che mi chiamate sensei, capitano, guru, nostromo, super gran direttore, io sempre Eugenio sono, con le mie conoscenze, le mie competenze, limitate, fallace, come chiunque, e questo, questo è, ok? È solo un gioco il discorso del Sensei Eugenio, che tra l'altro, dicevo, non so se vi ricordate, Sensei non per volere di Dio, ma, e con Dio in questo caso cercate di capire a chi mi riferisco, ma, per volere vostro, del popolo, perché siete voi che mi avete eletto come tale. E questo, a parer mio, dovrebbe essere, cioè, un Sensei deve essere, tra virgolette, eletto, deve essere scelto, non basta l'etichetta, ma, cosa significa Sensei? Questo termine a cui noi diamo un'importanza vitale e che, eh, non si può avere se non, eh, hai fatto determinate cose che spesso sono contro, vabbè, Sensei vuol dire nato prima. Il Sensei è colui che è nato prima di te e quindi che ha esperienza su una determinata cosa, va bene? che ha esperienza in un'arte, in una disciplina, che ha delle conoscenze che ti può passare. Quanto nato prima non si sa, ok? E su questa cosa poi ci ritorniamo. Non è nato prima di te, di X anni, è nato prima. In Giappone, mi spiegava Gaetano, che ha spesso rapporti con il Giappone e con Tokyo in particolare, in Giappone chiunque insegni è chiamato Sensei, ok? Il maestro di scuola è Sensei, il maestro di musica è Sensei. Sensei è un termine simile alla nostra idea di maestro delle elementari, disegna un insegnante. Altro termine che a me piace molto, anzi, vi dirò di più, forse a me piace di più insegnante che maestro. Perché? Perché maestro è uno che ha la maestria, va bene? Quindi che è molto competente in italiano, è uno che è molto competente in qualcosa. Domina, conosce una disciplina, un'arte. Insegnante è colui che lascia un segno. Professore è colui che addirittura professa. Quindi, noi proprio vogliamo guardare l'italiano io preferisco essere definito insegnante perché faccio tutto il possibile nel limite delle mie competenze per lasciare un segno su cui, su chi mi segue. Spero positivo, forse qualche volta anche negativo, ma faccio quello che posso. E non ha quindi un concetto mistico, trascendentale o cose di questo tipo. Siamo noi in occidente, anzi, mi permetto di fare ancora un passo indietro. Il maestro Palumbo, Gaetano, mi spiegava, lui che frequenta spesso Kinawa, che lì proprio l'approccio è molto easy, molto shallow, molto chill. Cioè, maestri che hanno delle competenze altissime e che hanno dei gradi che per noi sono inconcepibili, si buttano in mezzo alla mischia, praticano coi praticanti cinture bianche, ti vengono ad allenare, cioè, è un approccio molto tranquillo. E io questo un pochino l'ho visto, l'ho toccato con mano ed è stato un grande piacere quando sono andato a seguire un seminario dei maestri Arakai, di Kobudo appunto, dove ho trovato questa persona, il maestro Shouzen, che si è messo lì e ha preso me, i miei ragazzi e praticamente ci ha quasi dedicato tre ore di allenamento proprio di cuore. Questo è un maestro, questo è il maestro che io cerco e voglio essere, ma ha ben poco a che fare, come dicevo, con i concetti mistici che spesso gli diamo, come detentore di delle verità supreme, di conoscenze del modo, di modi di vivere illuminati o altro. Poi magari ci sono, ok? Non sto dicendo che non ci siano queste figure qua, ma sono una su un milione. Noi invece discutevamo quel giorno con Gaetano, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso maestro gli abbiamo messo la M maiuscola e a quel punto è diventata questa figura mistica a cui noi dobbiamo dare assoluto rispetto, la cui parola è legge e che spesso è molto lontana da quello che poi è la realtà. Perché io da un maestro inteso in questo modo qui mi aspetto un determinato comportamento nella vita di tutti i giorni. Mi aspetto una determinata coerenza con se stesso prima di tutto che e con i suoi allievi. Mi aspetto un determinato modo di vivere e di agire, cose che spesso per la mia esperienza io non ho trovato. Anzi, io ho trovato maestri che sono determinate persone, si mostrano in un determinato modo in certi contesti ma che poi quando quel contesto non c'è sono persone completamente differenti con cui io non andrei neanche a bere non una birra, un caffè. E quindi forse ovviamente non faccio di tutta l'erba un fascio, vi parlo della mia esperienza limitata e di quello che ho visto e che mi ha lasciato spesso la mare in bocca e che mi ha portato a capire che forse forse questa cosa del maestro che puoi diventare soltanto quando hai almeno 40 anni perché nonostante tu sia nato prima quindi sia un sensei da quel punto di vista e magari pratichi come me da oltre 30 anni e gestisci un'attività da 15 tu se non hai una determinata età anagrafica non puoi a livello federale sostenere l'esame da maestro non importa il tuo appunto le tue competenze la tua esperienza il tuo curriculum gli anni di studio non importa quello che hai fatto no praticamente tu superata una certa età pum probabilmente ti si apre il terzo occhio arriva l'illuminazione il giorno del tuo quarantesimo compleanno Funakoshi ti appare ti tocca il terzo occhio e tu a quel punto puoi sostenere l'esame vabbè così un piccolo lasciatemelo fare un po' di di dissing dai datemi queste concessioni detto questo stavo dicendo il fatto che questa figura sia stata mistificata forse un po' troppo da un lato è corretto ok è giusto soprattutto con gli allievi giovani con gli allievi più piccoli con i bambini che il maestro abbia questa patina di fascino di mistero anche se vi ricordo sempre che il fascino lo charm è un qualcosa che si impara non è un un elemento diciamo naturale ok impararlo vi aiuterà molto è un qualcosa che si impara è giusto così perché perché aiuta ad alimentare una narrazione aiuta ad alimentare una storia e ed è la storia che spesso fa sì che le persone si fermino nella nostra disciplina e la imparino ad apprezzare però dall'altro lato non dobbiamo farla fuori dal vaso a parer mio e adesso vi vorrei svelare un piccolo segreto un segreto che non vi dirà mai nessuno quindi mi raccomando fate attenzione il maestro in verità è un uomo o una donna esattamente come me e te mangia beve dorme fa perfino la cacca sì giuro è la verità ok li ho visti io andare in bagno e starci tanto va bene quindi approcciarsi soprattutto quando la vostra pratica è un po' più matura al maestro come una figura mistica che detiene tutte le conoscenze è un approccio che a parer mio anche se a loro piace molto perché diciamoci la verità a questi soggetti piace questa cosa gli alimenta l'ego a manetta e siamo di nuovo in dissonanza con quello che dovrebbe essere la nostra disciplina è una pratica sciocca perché? perché ci mette sempre sotto di loro io non dico che dobbiamo essere al pari ma neanche farci schiacciare soprattutto quando la nostra pratica inizia ad avere una certa età e nel momento in cui noi capiamo questa cosa riusciamo a praticare e a vedere il nostro maestro sempre con l'estremo rispetto e con l'estrema gratitudine che gli dobbiamo perché lui si è reso disponibile a insegnarci ciò che per lui è valsa una vita di fatica e di allenamento ma con degli occhi un po' differenti con degli occhi diversi più disincantati che in realtà ci fanno apprezzare molto di più la persona che è ma anche voi maestri dovete essere un po' sinceri forse e far vedere realmente chi siete e mostrare perché no anche i vostri difetti le vostre debolezze mostrare che siete fallaci proprio come ogni essere umano perché qualunque maestro essendo essere umano può sbagliare può fallire ma è il rendersi conto dello sbaglio rendersi conto del fallimento il provare far vedere come reagisce a queste cose che secondo me fa di lui un maestro e ciò può accadere ad ognuno di noi ed è meraviglioso quando ci si trova davanti a persone così che non e che sono coerenti con se stesse e dimostrano la propria umanità e non che alimentano un'immagine falsa proprio come accade nei social che tanto spesso criticano che poi non è coerente con la verità con ciò che sono davvero e vi dico una cosa il giorno in cui riuscirete a prendere consapevolezza che il vostro maestro uomo o donna che sia è un essere umano come voi ha i vostri stessi difetti le vostre stesse esigenze le vostre stesse necessità e può sbagliare proprio come voi beh vi garantisco nero su bianco che il vostro karate migliorerà il vostro rapporto con il vostro maestro se è una persona intelligente migliorerà e se non è una persona intelligente probabilmente vi farà capire davvero che avete davanti e vi porrà di fronte al grande dubbio se è il maestro giusto per voi oppure no bene io direi che ci siamo detti tutti cosa ne dite tutto cosa ne dite quindi vi lascio al weekend sperando che sia un weekend ricco felice in cui possiate riposarvi in cui possiate praticare io vi auguro come sempre una meravigliosa pratica vi abbraccio mi raccomando cercate sul canale su telegram la nostra repubblica indipendente pirati del karate e vi do appuntamento a venerdì prossimo per un'altra puntata assieme ciao da Eugenio vuoi unirti alla repubblica indipendente dei pirati del karate vai su dojo shinsui.com slash repubblica pirati e